La capacità della vostra realtà è proprio quella di aprire al territorio sia a livello istituzionale sia a livello ovviamente di imprese, di contatti con il mondo del lavoro che è quello che vi aspetta al di fuori ovviamente del vostro e dopo il vostro percorso didattico. Io ringrazio anche Don Davide che questa mattina ha accolto l'invito di venire a parlare con voi e quindi auguro a tutti voi una buona mattinata ma soprattutto come già ha ricordato la dirigente di ascoltare con molta attenzione perché sicuramente quello che questa mattina sentirete è ancora una volta quella goccia che sicuramente fa parte di un percorso di vostra crescita. Non soltanto diciamo scolastica ma anche come persone. Chi non ha sentito parlare di Mare fuori? Nessuno. È veramente così? Non è veramente così? Mare fuori è come un romanzo, è una novella, è un racconto adesso dire che sia realistico o meno insomma interessa fino a un certo punto. Ma è un carcere minorile, io non sono in un carcere minorile, è un carcere di persone adulte, è un carcere maschile e quindi non ho sicuramente troppo contatto con una realtà che comunque è diversa.